Siamo in diretta, mi chiamo Lorenzo Scalchi e lavoro a codici ricerca e intervento come ricercatore sociale. Siamo nel secondo dialogo della rassegna, i fantasmi non esistono, andare oltre la definizione di NIT e sono del secondo di una serie di quattro dialoghi e di un webinar che è stato realizzato il 2 febbraio scorso, con cui appunto questa formazione in diretta Facebook live dal 18 alle 18.45 circa, abbiamo alcuni ospiti, alcuni ospiti con cui cercheremo di farci una chiacchierata sul tema del fenomeno appunto NIT, che è un acronimo nato nel Regno Unito negli anni Ottanta, che significa persone giovani che non studiano, non lavorano o non sono inserite in nessun percorso formativo. Questa è una definizione che con questa rassegna all'interno del progetto LIK, un progetto con cui stiamo valutando in Ungheria, Lettonia e Bulgaria, dei progetti di inserimento lavorativo di persone giovani appunto in quei contesti, la nostra valutazione ci ha fatto emergere appunto una domanda se la definizione di NIT sia una definizione adeguata per descrivere il fenomeno, ma soprattutto le persone che stanno vivendo questa condizione difficile di transizione verso l'età adulta. Dal 2011 in Italia si parla moltissimo della definizione di NIT, lo si faceva anche prima, ma dal 2011 in poi ci dice appunto la letteratura che i programmi poi di intervento si sono moltiplicati. All'interno del webinar abbiamo cercato di criticare questa definizione, sia perché è una definizione che appiattisce la diversità dei profili e delle storie delle persone giovani che sono contenute appunto dentro, anche perché non abbiamo, come magari era all'inizio degli anni Ottanta, un target specifico a livello di età na grafica. Non si parla solamente di giovani con meno di 18 anni. Sappiamo che in Italia oggi i NIT sono definiti come giovani dai 15 ai 34 anni, quindi come potete immaginare ci sono una diversità di storie, di profili che sono riassunti e poi è una definizione che non ci piace perché è una definizione negativa ed è una definizione che non rappresenta né le forze, né la voglia, né le difficoltà di chi è alla ricerca, di chi è in ricerca, alla ricerca di un lavoro, alla ricerca di una formazione tecnico-lavorativa, accademica e quindi è una definizione basata totalmente sul negativo, vorremmo cercare di andare oltre e proporre anche a chi si occupa di intervento sociale, di politica, dei pensieri e delle valutazioni molto metodologiche. L'obiettivo del dialogo, così come è stato l'obiettivo del dialogo precedente che ha ospitato Benedetta Angiari di Fondazione Cariplo, che ha curato e ha coordinato il programma NITWORK, è proprio un obiettivo di dare delle indicazioni molto pratiche, molto concrete su quali sono le domande di partenza di chi cerca di organizzare degli interventi sul territorio, sia a livello di programma, di politica, ma anche a livello di progetti. Ed oggi è proprio un momento in cui non andiamo ad analizzare un programma o una politica, come è successo nello stesso dialogo, ma cercheremo di entrare nel vivo di un territorio. Andremo nel Rodense e nel distretto di Garbagnate, dove ci sono state delle sperimentazioni. Quindi la parola di oggi è proprio sperimentazione. Sperimentazione per capire molto concretamente di che territori stiamo parlando, di chi sono le persone che hanno partecipato a progetti di orientamento lavorativo. Il titolo di questo dialogo è Dalla scuola al lavoro, dove, come, quando orientare. Quindi è questo il nostro focus di oggi. Ma sperimentazione anche perché vorremmo inserire nel dibattito di oggi e nella chiacchierata che io avrò con i miei due ospiti, anche il tema della valutazione di come è andata, come sono andati finora questi progetti di intervento territoriale, che valutazioni sono state fatte, anche grazie al dialogo e al contributo delle persone che hanno partecipato al progetto come giovani, come giovani che hanno iniziato delle attività in gruppo, dei laboratori, che hanno iniziato un tirocinio o un'esperienza lavorativa. Quindi il progetto di oggi, invito i nostri due ospiti a partecipare, Sergio Manni di SERCOP e Christian Fama, che appunto hanno partecipato entrambi al progetto IAV, il progetto Youth at Work, un progetto finanziato da fondi POR Lombardia sui comuni, sui distretti, scusate, di Rò e di Garbagnate nel nord-ovest della città di Milano, un progetto che è nato appunto nel 2020 e anche con una serie di nuove riprogettazioni sta continuando ad andare avanti in varie forme. Dico solo che il capofila all'inizio del progetto era appunto l'azienda speciale consortile comuni insieme. Poi appunto Sergio Manni, che lavora a SERCOP, è il coordinatore. Il coordinatore sia della fase progettuale precedente, nata appunto nel 2020, ma anche delle attività che si stanno ponendo in essere in questo momento. Il progetto ha riguardato appunto il tutto il tema del orientamento dopo la scuola, quindi verso il mondo del lavoro e ha riguardato una serie di interventi di servizi per giovani che avessero meno di 30 anni e fossero in una condizione di inattività lavorativa o di non partecipazione a corsi di formazione o di appunto corsi di istruzione e formazione professionale e che non fossero neppure iscritti al programma di ai programmi già in essere di di aiuto come e di sostegno come ad esempio garanzia giovane. Quindi chiederei appunto a Sergio di 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 comparire. Grazie. Ciao. Ciao, Sergio. Ciao. Buonasera a tutti e a tutti. Grazie mille della della vostra partecipazione e chiedo a Cristian anche Cristian Fama di ciao Cristian. Buonasera a tutti. Cristian appunto ha partecipato al progetto Youth at Work e ci racconterà anche la sua esperienza di persona che ha beneficiato anche delle attività che sono state organizzate. Con noi ci sarebbe stata anche Francesca però purtroppo appunto non è potuta essere essere con noi con noi oggi ma ringraziamo moltissimo anche lei della disponibilità a essere qui e appunto a raccontarci anche in in questa diretta le loro considerazioni le loro esperienze soprattutto. Sergio io appunto inizierei da da te chiedendoti innanzitutto la storia del progetto e la storia del titolo del progetto Youth at Work. Allora intanto scusami ti corrego perché Young at Work ma il significato è simile. Allora la storia è abbastanza recente nel senso che partiamo dal 2020 la fase di attuazione quindi qualche mese prima nella nella progettazione. Come hai detto tu è ha praticamente coinvolto due ambiti è un progetto con finanziamento regionale e quindi c'era l'ambito della Bollatese e Garbagnatese e del Rodense. Adesso io non so se occorre specificare. Comunque diciamo quello del Rodense dove poi si è attuato il progetto IAV comprende nove comuni con un bacino di 170 mila abitanti e nella fascia di età quella che indicavi tu dai 15 ai 34 anni siamo intorno ai 34 mila giovani eh quindi più o meno il diciannove per cento giusto per dare a una una dimensione quantitativa. Ehm il progetto che vedeva appunto il Rodense lavorare soprattutto su la categoria dei NIT e Lorenzo appunto ha speso eh già ha anticipato appunto anche la condivisione di di questa categoria insomma che mi vede mi trova d'accordo su questa lettura mentre nella Bollatese era soprattutto rivolto a a giovani con problemi eh di natura psichiatrica sostanzialmente quindi era uno stesso progetto dal titolo In Love con diciamo dei beneficiari eh un po' diversi e anche le come dire l'operatività e gli obiettivi erano differenti. Ehm si chiama IAV perché all'inizio del progetto il titolo era congiunto In Love però siccome avendo eh soprattutto nella fase iniziale del progetto investito molto sia come ragionamento che come azioni nella comunicazione perché uno dei eh dei nodi eh era proprio quello di come come dire diffondere il progetto quindi che canali in che modo diffonderlo cioè con che tipo di linguaggio e ehm e attraverso quali strumenti sostanzialmente questo è stato il primo il primo tassello diciamo eh e anche il titolo cioè come chiamarlo è stato forse il primo nostro argomento cioè cercare un nome che non fosse in love perché non so non non si piaceva eh e quindi abbiamo utilizzato una un acronimo eh che potesse essere un po' anche slogan e potesse suonare bene insomma adesso non dico che ci abbiamo passato le notti però un paio di equip eh ce li abbiamo dedicate proprio per riuscire a trovare un po' un nome che potesse essere in qualche modo identificativo semplice e non stigmatizzante anche sostanzialmente meno socialese possibile poi non so se siamo riusciti a trovarlo eh però ecco questo è poi un nome che ci stiamo portando dietro perché comunque il progetto è terminato col finanziamento della regione Lombardia ma ha avuto continuità adesso poi magari ne parleremo successivamente ehm rispetto al nome è un po' questo eh rispetto alla domanda. Eh Sergio mh ne approfitto poi per tu dicevi appunto ehm si basava molto sul sul tema del come diffondere il progetto cioè proprio un nome che potesse essere un nome molto comunicabile e che tipo di scelte di linguaggio eh avete utilizzato all'inizio cioè qual era la la sfida che vi siete posti all'inizio proprio in tema di comunicazione a ragazze e ragazzi di questa opportunità. Prima eh ti faccio questa domanda e poi però potresti proseguire dicendoci un po' la le attività principali che che hanno strutturato il progetto rispetto appunto agli obiettivi che vi siete dati. Allora innanzitutto è il territorio del Rodense eh io parlo solo del Rodense quindi non non tocco quello del Bollatese che non è non è mio territorio e poi perché come ho detto precedentemente ha attivato un altro tipo di progettualità. Ehm ha eh come dire da anni eh diciamo è un territorio che ha visto eh sviluppare anche dei percorsi di welfare comunitario. Questo lo dico perché poi nella scelta della della diffusione della comunicazione che è stato non solo come ho detto prima di nel nel pensiero del titolo e del nome ma anche il modo. Quindi all'interno dell'equip oltre che esserci vabbè io come coordinatore eh faccio anche i nomi perché magari ci sono anche mi sembra un modo anche di riconoscimento per il lavoro fatto da Carlotta eh esperta di mediazione al lavoro, Arianna che è un operatore di comunità anche di welfare di comunità eh Elisa come orientatrice e poi c'era Alessia invece giovane comunicatrice sostanzialmente quindi possiamo dire un'equip anche eh con diverse professionalità proprio perché ci sembrava opportuno mettere in campo differenti professionalità barra differenti sguardi. Questo poi è stato eh come dire un filo rosso che ci ha accompagnato in questi anni. Eh e ho fatto questa premessa del territorio e del welfare comunitario perché abbiamo utilizzato la scelta è eh di eh di aver utilizzato tutti i canali comunicativi possibili quindi dai social chiaramente direi che per arrivare giovani ehm erano era necessario eh trasmettere e comunicare sui social ma anche su quelli come dire un un pelo più agé no nel senso che eh abbiamo utilizzato comunque dei giornali eh che girano all'interno del rodense perché comunque eh avevamo in mente di arrivare ai cioè che i destinatari erano sì ragazzi ma potevano essere anche i familiari o i conoscenti che poi si facevano in qualche modo portavoce della diffusione della eh della della dell'esistenza del progetto sostanzialmente e eh quando poi eh ci arrivavano i contatti della telefonata e dei ragazzi o anche dei familiari chiedevamo anche come erano venuti a conoscenza del progetto perché era anche quella era un po' una ricerca sperimentale sostanzialmente e e ed è difficile definire qual è stato il lo strumento il canale eh prevalente perché veramente c'è il giornale che alcuni ragazzi hanno saputo dell'esistenza di Yav perché il nonno legge il giornale del rodense e vanno a trovarlo il sabato oppure il nonno gli dice guardo ho letto questa roba eh questo insomma l'esistenza di questo progetto come così abbiamo utilizzato molto eh come dire il passaparola proprio perché con questo progetto di welfare di comunità ci sono del gli op caffè quindi degli Yav con degli operatori e quindi abbiamo fatto un un effetto amplificazione del passaparola sostanzialmente questo è un altro canale eh fondamentale quindi come dire l'avere utilizzato tutti i canali possibili ha ha reso ed è la prima primo dato che ci ha sorpreso noi nel progetto avevamo scritto di riuscire a contattare almeno trenta ragazzi e abbiamo avuto più di cento contatti. Vero è che eravamo come dire nella riapertura della della prima chiusura della della pandemia quindi sicuramente c'è stato anche eh una ha dato una man forte diciamo a a far sì che poi i ragazzi cogliessero appunto quella che poi per alcuni è diventato un'opportunità un'occasione di percorso. Sergio l'ultima cosa tanto per dare un po' al al pubblico che ci ascolta un un contesto e una chiarezza anche rispetto ad alcuni obiettivi posti dal dal progetto IAV che cosa appunto avete comunicato? Quali erano le attività che volevate eh proporre al territorio in particolare appunto a a giovani e alle giovani che eh vi aspettavate di incontrare? Ma in realtà nella comunicazione abbiamo chiaramente scritto una cosa molto semplice nei comunicati stampa abbiamo chiaramente articolato un po' di più il il progetto mentre nella comunicazione social ehm e anche nei volantini abbiamo usato vabbè più che altro del ehm in realtà è ai dai era dai diciassette ai trent'anni forse il primo progetto ehm non studi e non lavori vuoi condividere adesso non mi ricordo le parole esatte però erano proprio quattro righe e con i riferimenti di Arianna che era la persona da contattare sostanzialmente quindi non c'era nessuna come dire obiettivo definito se non più sulla condizione ecco non sai cosa fare bisogno di orientarti insieme ad altri della tua età ecco una cosa di questo tipo eh non c'era non erano declinate le attività specifiche eh per per due motivi uno perché si lavora con i gruppi e poi magari nel caso lo spiego anche dopo perché anche noi avevamo chiaramente pensato e scritto il progetto ma molto era eh di fatto in divenire cioè le attività si sono sono state pensate ragionate proposte ma poi si sono anche modificate un pochettino perché quello era stato un po' eh il campo della sperimentazione sostanzialmente quindi un approccio che non portava diciamo da quello che da quello che dici una ehm che non realizzate che non avrebbe realizzato delle attività formative su come dire degli dei contenuti già previsti ad esempio che cos'è il programma eh nazionale e regionale di inserimento lavorativo che cosa sono i tirocini eh che cosa vuol dire appunto eh scrivere un curriculum siete partiti con uno sguardo eh molto aperto e e anche poco strutturato sì 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 io ne approfitterei per chiedere a Cristian a Cristian Fama ehm di provare a raccontarci eh proprio il momento in cui hai incontrato Cristian il il progetto o le persone che che hanno partecipato appunto nella realizzazione del progetto quando è stato tu in quel momento appunto che cosa facevi e com'è successo che sei arrivato in contatto con il progetto Iago. Allora inizio col fare una piccola premessa io ho fatto l'università del di scienze e tecnologie dell'ambiente del territorio all'università di Bicocca nel 2018 l'ho frequentata per tipo due anni anni circa due anni e mezzo e poi avendo avuto difficoltà sia col fare gli esami sia col prendere appunti sia col seguire i corsi col tempo ho iniziato un po' ad andarci un po' di meno all'università e a frequentare un po' di meno poi è arrivata anche la pandemia nel 2020 e a quel punto ho totalmente abbandonato dal 2020 al 2021 ho avuto affrontato un periodo un po' un po' molto un po' pesante e di conseguenza ho avuto un sostegno psicologico che sto avendo tuttora in questo periodo e avendo abbandonato relativamente tutto non lavorando stavo tutto il tempo a casa è stato un periodo molto pesante e a un certo punto la psicologa mi ha consigliato di rimettermi in moto e lei conosceva il progetto il progetto young at work e mi fa ma perché non provi a a informarti a chiedere e io e io ho provato ho provato ho parlato con con arianna nel ed elisa nell'incontro iniziale e poi mi hanno mi hanno inserito questo a fine 2021 ci credo non mi ricordo forse ottobre novembre 2021 ed è andata relativamente bene poi nel fine febbraio 2022 mi hanno consigliato di fare il servizio civile di provare a candidarmi e ero inizialmente un po' titubante perché la mi ero già candidato nel duemila all'inizio del 2021 ma non è non mi avevano preso e quindi ero un po poco motivato nel ricandidarmi di nuovo ma alla fine mi hanno detto di riprovare lo stesso io ho provato e stavolta mi hanno mi hanno preso e attualmente sto lavorando per il comune dirò nel settore dell'urbanistica sotto conto del servizio civile e tra poco finisco e per questo sono un po grato a al young at work che almeno ho avuto un po di rialzo non so come dire mi sono un po ripreso e adesso ho iniziato a lavorare poi a dopo vedrò se riprendere o meno gli studi o chissà quindi il tuo come dire il tuo servizio civile il secondo che hai appunto per cui ti sei candidato è arrivato alla fine di un percorso di gruppo e di esperienza anche di comunità all'interno del progetto IAV se capisco bene sì sì ho fatto IAV da novembre 2021 fino a febbraio e a maggio maggio inizio maggio mi hanno preso per per il servizio civile ok grazie christian no solamente grazie anche di aver condiviso il momento d'inizio no della della tua della tua storia della tua esperienza con con IAV ne approfitto solo per fare una domanda a sergio e poi torno torno da te christian christian ha parlato appunto di che il progetto è stato consigliato a lui tramite un una una psicologa quindi volevo capire da te sergio se il il lavoro di rete con servizi sociali educativi anche psicologici di cura nel territorio ha valorizzato ecco la modalità poi di costruzione di un gruppo di professionisti e di giovani che hanno lavorato insieme nel progetto IAV questa come particolarità del programma di intervento su questi temi soprattutto il tema di orientamento lavorativo abbiamo capito essere anche dalle esperienze che ci sono state raccontate particolarmente efficace laddove c'è un lavoro di rete territoriale di comunicazione delle diverse opportunità tra diversi servizi quindi ti chiedo appunto il contesto se era effettivamente così oppure se invece siete stati voi che con questo progetto avete dovuto eh in qualche modo stimolare maggiormente il la la rete sul territorio ma ci sono stati due tempi diciamo nel senso il primo tempo eh del progetto abbiamo praticamente eh concentrato la diffusione la comunicazione la ricerca di di aggancio e ingaggio con i ragazzi senza promuoverlo in modo particolare anzi eh quasi non dico escludendo però non ehm non investendo diciamo così nella comunicazione sui ai servizi sociali sostanzialmente proprio perché eh dal punto di vista progettuale vogliamo sperimentare e eh all'interno di SERCOP c'è anche un servizio di inserimento lavorativo e quindi volevamo la sperimentazione era proprio quella di andare a eh intercettare i giovani che eh non sono seguiti dei servizi sociali sostanzialmente questo è stato primo quasi nella prima annualità eh proprio perché eh sempre sulla scorta anche un po' del progetto di welfare di comunità era quello di eh come dire proprio perché anche in letteratura in it è quella categoria eh quasi infinita e quindi era di riuscire a intercettare e a prendere contatto con quelli che eh meno si vedono sostanzialmente meno sono in intercettabili eh e quindi questo è stato il primo diciamo il primo tempo il secondo poi eh invece abbiamo fatto poi degli incontri anche col tavolo delle assistenti sociali abbiamo abbiamo promosso e presentato il il servizio e e diciamo che da lì sono poi arrivate anche poi delle quelle che si chiamano un po' delle segnalazioni sostanzialmente quindi è stato inizialmente un progetto di eh primo livello sostanzialmente in cui il cittadino o il parente prendeva contatto in un secondo tempo anche di secondo livello cioè magari con la possibilità di una di un invio. Ok e per quanto riguarda la comunicazione social che tipo di social avete utilizzato? Che tipo di canone avete utilizzato? Eh Facebook e Instagram soprattutto eh Telegram sì direi dei classici sostanzialmente eh come come social. La la pagina Facebook abbiamo creato una pagina Facebook abbiamo utilizzato anche le pagine dei comuni poi per fare come direi per amplificare la la comunicazione. Che tipo di attività di gruppo dato che mi sembra essere il principale vostro metodo di lavoro la la realizzazione di attività in gruppo e di tipo più che formativo direi forse laboratoriale o di formativo in un altro senso forse più vocazionale perché leggendo appunto il progetto ascoltando le interviste che sono state realizzate che sono state anche sono nella vostra pagina Facebook emerge proprio questo eh gruppo e vocazione ma che tipo concretamente di attività avete organizzato? Allora ehm una nella logica della sperimentazione noi abbiamo definito il nostro un approccio ignorante no? Eh stasera ehm mi piace mi sembra che lo possa evocare una frase di di Munari che dice ognuno vede quello che sa sostanzialmente quindi noi siamo partiti dal presupposto proprio perché ehm si arrivava da un'esperienza lunga e significativa di 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 percorsi e progetti di integrazione lavorativa però sui giovani ehm non avevamo molta esperienza ma soprattutto non conosciamo cioè ci siamo riconosciuti come poco conoscitori di un mondo che era da scoprire quindi sostanzialmente quindi noi avevamo la nostra realtà e che come dire la dovevamo un po' lasciare andare almeno parte di questa la dovevamo un po' lasciare andare per riuscire effettivamente ad incontrare i giovani sostanzialmente per questo che ho detto che abbiamo eh nella nella scrittura del progetto ma soprattutto nella realizzazione concepito degli incontri di gruppo in cui il tema lavoro ad esempio abbiamo volutamente l'abbiamo messo sullo sfondo sostanzialmente eh ma prima ehm abbiamo cercato di invece conoscere i ragazzi e soprattutto creare un un clima di gruppo affinché ehm potessero esprimersi e far parlare anche i propri vissuti e propri desideri eh ad esempio una cosa quando ci siamo sentiti per questa intervista una cosa che abbiamo rottamato diciamo così quindi non voglio anticipare una tua domanda però vado per un po' eh conseguenza del mio pensiero ehm abbiamo scardinato la linearità del tempo cioè spesso nell'orientamento si parte dal passato cioè quello che hai fatto quello che hai studiato si va al presente sul come stai e e poi diciamo così la somma lineare tra quello che hai fatto dell'esperienza e il come stai ci si poi gira cioè si volta lo sguardo verso la prospettiva su quello che potresti fare questo non è giusto sbagliato però è molto lineare ecco con nella gestione del gruppo con i ragazzi abbiamo come dire mischiato queste eh tre fasi temporali sostanzialmente non abbiamo parlato tanto del passato proprio per non andare eventualmente a come dire andare a a portare lo sguardo su qualcosa che magari non è stato del tutto eh come dire o di successo o delle esperienze del tutto positive quindi non è tanto sul passato ma è un po' come dice eh Stefano Laffi con cui abbiamo avuto di codici con cui abbiamo avuto eh appunto momenti di confronto il fatto di poter riscrivere un po' una nuova sceneggiatura sostanzialmente quindi partire dal presente chiaramente collegandosi a le passioni e i desideri ma con una triangolazione tra presente future passato dove la temporalità era circolare sostanzialmente non addizionale come eh talvolta in percorsi di orientamento avviene con il rischio poi che si va a incontrare scontrare con la realtà cioè come un elemento prescrittivo è già è già dentro una certa cornice quindi l'idea che noi abbiamo provato a sgomitare questa cornice che ogni eh io come gli altri colleghi eh porta no? Cioè quindi di vedere quello che so sostanzialmente ha con l'idea del andare a incontrare qualcuno che non sappiamo e infatti abbiamo incontrato eh non quelli che non fanno ma ehm come dire abbiamo incontrato un mondo molto eterogeneo sia per età che per esperienze provenienze e dove non è assolutamente vero che persone che o ragazzi e ragazze che non fanno forse non fanno in quel modo lineare in cui culturalmente siamo abituati cioè o studiano formalmente o lavorano formalmente perché poi il il mondo e le esperienze dei ragazzi è anche pieno di attività magari non in regola oppure di corsi di formazione online cioè oppure di ricerca di qualcosa e eh anche molto frammentati sostanzialmente quindi quello che per ricondurmi alla tua domanda scusami perché magari mi perdo un po' eh eh le attività sono state proprio di conoscenza di presentazione lavorando soprattutto sui desideri sulle passioni e sul e sul possibile sull'immaginario sostanzialmente e secondo me ehm cioè se io infatti chiedo a a Christian di provare a raccontarci sulla base di quanto ha detto di quanto ci ha raccontato Sergio a livello del metodo che hanno usato se io mi fossi candidato in un programma così forse mi sarei aspettato di insomma imparare fin dal primo minuto a anzi forse di portare un mio curriculum ad esempio per capire se l'avessi scritto bene o non bene tu che che cosa ti ha sorpreso del modo in cui poi hai partecipato alle attività che eh del progetto e che cosa ti aspettavi all'inizio? Beh allora innanzitutto io mi aspettavo che fosse molto più ehm basico eh passatemi il termine nel senso che c'è una specie di web fanno sempre dei webinar il lavoro è così bisogna fare questo bisogna avere questa esperienza il curriculum si fa nel modo a b e c devi saperlo fare in questo modo o bisogna eh avere questo titolo di studio per fare questa cosa qui oppure devi fare questa cosa cioè molto eh in indicante eh il lavoro nel senso stretto del termine invece non lo è almeno non solo perché ci sta anche quella parte lì magari però è molto più interattivo dove si trattano delle cose che non ti aspetteresti mai e che sorprendono sorprendono in senso buono e di conseguenza mi hanno molto mi hanno dato molto a livello di esperienza e a livello di insomma bagaglio culturale chiamiamolo così non lo so quindi come come la definiresti questa questa esperienza perché cioè siamo all'interno di una cornice in cui questo dialogo questa questa questo momento che stiamo facendo insieme è stato chiamato da noi orientamento al lavoro tu questa cosa che hai vissuto la definiresti definiresti così o avresti anche delle altre modalità per per descriverla per qualificarla ma allora diciamo che in base al mio vissuto eh non mi limiterei soltanto a definire il progetto come un orientamento e basta ma lo considero anche come una specie di trampolino di lancio un un segnale di partenza come eh una cosa che avevo fatto tra l'altro che mi ricordo adesso quando ho partecipato per la prima volta c'era il primo incontro io insieme ai miei colleghi Arianna e Elisa dovevamo creare un nome per il nostro gruppo io avevo scelto Horizon che stava per orizzonte alla fine era stato scelto un altro nome però quel quel nome lì mi ha tuttora mi dà secondo me un sinonimo di della definizione che darei al progetto perché secondo me è qualcosa che ti dà nuovi nuovi orizzonti e ti dà un trampolino di lancio su cui partire perché io prima di allora non avevo niente sia l'esperienza lavorativa sia a livello di studio anche perché ho fatto un liceo dove vado senza senza una laurea quindi non sapevo dove sbattare la testa e il progetto mi ha dato un un biglietto per andare avanti ma come dire quindi se perché il fatto anche che tu sia qui non solo come testimone di un'esperienza ma anche come persona che riesce che può darci un suo punto di vista anche valutativo rispetto al successo o ai successi agli insuccessi perché io parlerei proprio al plurale non darei un un giudizio come dire tu cur così molto molto categorico sul progetto ma di successi insuccessi di cose positive cose negative ti faccio due domande una forse hai già incominciato a rispondere ed è che cosa ti porti a casa cioè che cosa hai adesso in mano che questo progetto ti ha contribuito a dare adesso che stai sei all'interno comunque di un di che ha iniziato un'esperienza di di servizio civile e sei all'interno di un processo che è cambiato rispetto a quello di due anni fa e l'altra domanda è alla luce anche di quanto invece può essere cambiato modificato perché può essere magari migliorato che cosa consiglieresti ecco a chi si occupa di realizzare progetti simili anche in altri territori non solo appunto in lombardia allora beh diciamo che quello che mi porta a casa senza dubbio delle terminologie e delle capacità di cui io non sapevo di possedere praticamente durante gli incontri dovevamo avere a disposizione delle strumentazioni per fare determinate cose io prima di allora non pensavo di essere in grado di fare quel tipo di cose e sono riuscito a risolvere il problema avere anche una sorta di problem solving e al contempo anche di lavorare in team lavorare con i miei colleghi insomma avere una una certa predisposizione al alla collaborazione ecco poi diciamo che io sono una persona molto timida io sono veramente molto chiuso molto introverso quindi diciamo che l'esporsi mi ha mi è tornato anche utile anche perché ora come ora siamo anche in questa diretta cosa che magari in me di due anni fa non non se lo sarebbe neanche neanche sognato tuttora io molta ansia per per intenderci quindi senza dubbio questo e inoltre mi ha portato avanti anche come dicevo prima le tecnologie tipo io le competenze trasversali come le soft skills a dir si voglia non avevo la più palida di cosa fossero e lì mi hanno il mi hanno istruito mi hanno insegnato che di che si tratta e ho scoperto anche col tempo anche grazie al servizio civile che qualcuna riuscivo a ad averla e per quanto riguarda consigli che doma presso che io diciamo che mi reputo sempre l'ultima persona che può giudicare l'operato come le altre come un un progetto si muove perché magari non ho io quel grande spirito critico ecco magari un consiglio che potrei dare è una magari un'attenzione di più sul sul sulla formazione del curriculum o su un o un aiuto nella nella realizzazione dello stesso perché io per esempio ora come ora il mio curriculum ce l'ho ma è ancora molto molto scarno molto molto brutto da vedere quindi ha un po di difficoltà nel riuscire a rifarlo e su quello magari mi servirebbe un po un po più di aiuto ma per il resto è tutto perfetto secondo me grazie grazie mille anche perché immagino che il curriculum sia uno strumento che tu adesso deve utilizzare devi 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 usare è uno strumento come dire canonico che in qualche modo può aiutare ad aprire dei canali lavorativi piuttosto che che no e chiedo invece a sergio come dire di di provare a interloquire ecco con queste considerazioni di christian e di aggiungerne eventuali altre io so che di tipo come dire valutativo io so che voi avete avuto un periodo in cui avete cambiato avete dovuto concludere una prima progettazione progettualità scusate e un momento in cui la è partita una seconda progettualità quindi oltre a quanto appunto ha riferito christian su su questo punto se ci sono state delle altre degli altri cambiamenti di metodo o di obiettivo che in itinere avete avete dovuto realizzare sì allora rispetto a quello che ha detto christian mi viene da un po sentendo quello che il suo racconto e magari faccio anche un esempio pratico perché non vorrei che magari adesso non chi ci ascolta lo pensa troppo astratto come ad esempio nelle attività di gruppo un'attività di gruppo che si è che si è fatta ehm era quella di chiedere ai ragazzi quindi come ha detto christian anche il nome e tutto quanto no per fare il gruppo whatsapp in modo che ci potesse essere anche un contatto se loro lo volevano anche fuori dal gruppo sostanzialmente ehm era quello di eh chiedere loro di pensarsi come un'agenzia di comunicazione in cui dovevano presentare all'esterno il il progetto young at work sostanzialmente e per farlo voleva dire fare un video fare una sceneggiatura avere un regista cioè e quindi eh è stata un'attività che loro hanno fatto dove si sono assegnati dei ruoli hanno poi fatto ogni gruppo ha fatto un video una presentazione del progetto e al di là che poi è stato credo poi questo lo possono dire solo chi ha partecipato dei momenti anche divertenti sostanzialmente collaborativi ma dove si sono giocati dei ruoli anche dei ruoli un'assegnazione di ruolo con la responsabilità e anche con la possibilità di collaborare quell'esperienza anzi quell'attività è poi diventata esperienza perché poi ci sono stati degli dei momenti riflessivi e anche tra di loro di confronto su come si sono visti come è andata e questa è stata come dire un'attività ehm che poi ha fatto sì che si parlasse anche di lavoro quello che eh che Christian chiama competenze trasversali eh perché in realtà il la riflessione che abbiamo fatto poi dopo è che poi le le competenze si coltivano nei contesti sostanzialmente no? Si possono chiaramente apprendere quelle quelle tecniche ma poi la gestione delle competenze tecniche del sapere si coltivano nei contesti in cui si fanno le attività barra si fanno le esperienze e quindi la proposta delle attività di gruppo e di alcune attività specifiche eh ha proprio quella quella finalità di sviluppare competenze all'interno dei contesti e soprattutto eh di scambio e di e di di confronto e di rimando tra tra i partecipanti eh quindi questo è un po' quello quello che mi si è collegato dalle parole di Christian ehm dopodiché la accolgo e mi sembra anche lo stimolo rispetto al magari poi ehm riprendere ad esempio per Christian ma magari anche per altri la dimensione il curriculum eh credo che sia importante perché non si parte dal curriculum però è è un biglietto da visita che va chiaramente che è anche dinamico e che va riempito proprio perché magari in una certa fase della vita è un po' scarno ma poi si arricchisce di esperienze quindi l'esperienza che ha fatto Christian eh credo che eh per lui e per la sua storia che poi viene sintetizzata nel curriculum c'è bisogno della di di rivederlo o quantomeno di lui di ristrutturarlo e magari anche con un aiuto e qua mi fa ricollegare a anche la sottodomanda della continuità nel senso che dal progetto in LAV quindi IAV del venti ventidue proprio perché sono stati della dalla sperimentazione c'è stato anche un un aspetto riflessivo nell'ambito del rodense con SERCOP con la cooperativa che l'ha gestita questa attività con per i giovani abbiamo avuto modo di avere e dare continuità eh del progetto IAV quindi con altri finanziamenti oggi c'è in corso quindi ha avuto continuità sostanzialmente eh nel senso che ormai è eh siamo nel duemila e ventitré quindi ha avuto sempre continuità e andrà avanti fino sicuro fino a metà del duemila e ventiquattro perché c'è adesso in corso un finanziamento con la regione Lombardia sul bando Smar Giovani e poi anche con la fondazione nord comunitaria e quindi ci sarà continuità in questa attività eh continuità che si è anche arricchita nel senso se progetto IAV vedeva eh SERCOP e la cooperativa AI che è una cooperativa di tipo A che eh è storica per le competenze sulla mediazione eh integrazione del al lavoro delle fasce deboli si è arricchita da altre due cooperative in questo momento eh del rodense che è la Fuccine Barabbas Clown e poi con l'altro progetto che eh inizierà a brevissimo anche altre due cooperative Stripes e eh Serena. Questo arricchimento significa allargare le conoscenze e anche allargare le le proposte nel senso che adesso il progetto IAV che è in corso ehm si è arricchito di eh un laboratorio teatrale e eh di eh speakeraggio di radio web e quindi attività laboratoriale le facciamo con eh con le radio con la radio web anche quindi quell'attività che vi ho accennato prima sull'agenzia di comunicazione oggi è diventato una trasmissione un podcast alla radio che ha quel senso lì ed è il dar voce eh la dimensione di espressività così come l'ambito teatrale e quello che poi si aggiungerà ulteriormente è laboratori di robotica e stampa 3D. Questo per aprire un po' il catalogo no? Delle proposte laboratoriali eh perché possono sempre come dire in qualche modo svilupparsi con quel filo che ho spero di aver descritto anche se sinteticamente precedentemente insomma. Grazie grazie Sergio e grazie anche comunque eh un in bocca al lupo per per tutte le prossime attività che saranno appunto parte del del nuovo progettualità e ci tengo appunto a ringraziare moltissimo ehm i racconti da parte di due punti di vista diversi che magari nel progetto erano appunto eh da due parti diverse che però si sono incontrate e grazie anche di aver essere riusciti a dialogare insieme qui qui oggi quindi ehm ringrazio appunto Sergio Manni di SERCOP e Christian Fama che ci ha dato ehm uno spaccato della sua esperienza eh rispetto al anche le al programma in cui in cui ha partecipato ehm è appunto una tutto quanto una riflessione legata al senso di questi di questi di questi di questi programmi di questi progetti che sono molto diversi. Abbiamo siamo entrati nel territorio del nord ovest milanese, del rodense, di Garbagnate e abbiamo anche capito quali possono essere le peculiarità interessanti e importanti che un un progetto ha all'interno appunto delle sue caratteristiche strutturali. Quindi grazie a Sergio e a Christian eh grazie anche al pubblico che che ci ha seguito eh adesso in in sovraimpressione appunto ci saranno delle informazioni legate al alle prossime date in cui faremo degli approfondimenti eh sempre sul tema eh andare oltre la definizione di e potete eh potete eh vederle adesso in sovraimpressione potete anche eh essere in contatto appunto con i nostri canali eh Facebook e Instagram per eh essere connessi appunto alle opportunità che saranno sempre in diretta eh Facebook. Eh grazie ancora e buona serata a tutti e a tutti. Buonasera. Di niente buonasera. Grazie. Grazie.